mascherine noi dobbiamo andare verso una autosufficienza anche produttiva. Camici è stato anche in questo caso individuato il tessuto, si è messo a disposizione, ha presentato una propria proposta a Armani per fornire e realizzare questi camici assolutamente necessari. Ultimo punto, oggi abbiamo fatto una rapidissima giunta per approvare il provvedimento con il quale il nuovo ospedale della Fiera viene, tra virgolette, dato in gestione al Policlinico, viene accorpato al Policlinico, diventa una sorta di reparto del Policlinico di Milano, ossia per tutti gli aspetti al Policlinico viene affidata, viene assegnata la proprietà dei moduli che sono all'interno dell'ospedale, al Policlinico viene assegnata la ricerca e l'assunzione del personale, la realizzazione di tutti quegli impianti che sono necessari e la gestione complessiva del nuovo ospedale che diventerà in realtà un reparto del Policlinico. Basta. Ah no, ecco sì, ho avuto un brevissimo colloquio sia con il dottor Cagliazzo che con il dottor Bertolaso, entrambi sono in fase sicuramente di miglioramento, stabili nel miglioramento, erano entrambi su di morale, quindi penso che le loro condizioni siano assolutamente sotto controllo e ripeto, in miglioramento. Due cose Presidente, la prima quando sarà inaugurato l'ospedale in fiera, la seconda se è cambiata la strategia sui tamponi, adesso basta un solo sintomo per poterlo effettuare? Allora, su questo aspetto come ho detto la strategia è cambiata nel senso che l'Istituto Superiore della Sanità ha detto che adesso basta un solo sintomo, ha detto la cosa giusta, nel senso che fino a qualche giorno fa bisognava essere polisintomatici, averne almeno due su tre, adesso basta un solo sintomo. Come ho detto non dovrebbe, non subirà alcun tipo di rallentamento circa l'inaugurazione, quindi la previsione è che all'inizio della prossima settimana ci sia l'inaugurazione stessa. Se ce la farete? Se uscirete a fare questa domanda, per farla fine, se iniziate rispondere alla domanda, infatti abbiamo dato, sono molte forze dell'ordine oggi qui a Milano, c'è stato un rafforzamento dei controlli? Ah, grazie. Ma sui rafforzamenti dei controlli io ho sempre chiesto che ci fosse, che fossero, sono scelte del prefetto, evidentemente io purtroppo normalmente non ho alcun tipo di controllo sulle forze di polizia, per cui è il prefetto che l'ha fatto, io ho chiesto fin dal primo momento al prefetto di essere rigido per evitare che ci fossero persone che ancora prendevano la legge del provvedimento. L'altra domanda, mi scusi, sul... No, no, ma la sento. Carina, dico, siccome basterà anche un solo sintomo per fare il tampone, ci saranno abbastanza tamponi, riuscirete a rispondere a... Ma noi non abbiamo problemi, guardi che problema non è il numero dei tamponi, è il processamento dei tamponi. Noi con i nostri laboratori abbiamo detto, ribadiamo e sottolineiamo che siamo arrivati praticamente al limite, noi siamo poco più di 5.000 tamponi al giorno, in quella direzione continuiamo ad andare. Ecco, come nel rispetto di quelle che sono le regole a cui facevo riferimento al suo collega, dei sintomatici, che adesso possono essere anche monosintomatici e non plurisintomatici. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Scusi, una domanda qua. Ah, no, scusate. Michele Novaga, della stampa extra NBC News. Una domanda sulle case di riposo, la cui situazione pare drammatica. Ci sono state delle notizie della casa di riposo di Lodi con 38 morti, di Mediglia con 52, ed è notizia di oggi, almeno era scritto sul giorno, che la casa di riposo polo geriatrico riabilitativo di Milano, all'Ortica, ha già 23 morti e 44 persone positive al coronavirus. Le chiedo, mi si consente la domanda sia da giornalista che anche da figlio di persona che ha una mamma lì, e cosa pensate di fare, se volete tamponare tutte le persone, se potete anche, se volete anche, avete pensato di evacuarle, visto che il rischio è molto alto perché tutti hanno due o tre o più patologie. Sicuramente sotto controllo, nel senso che noi siamo costantemente in rapporto con tutte le case di riposo. Si fanno delle scelte a secondo delle necessità e si pensa sicuramente di arrivare alla risoluzione della questione, individuando le persone che devono essere, che sono pluri, come vi ho detto anche mono, portatore di un sintomo e verranno sottoposte a tamponamento e verranno eventualmente allontanate. Adesso faremo le valutazioni che dovranno essere distinte casa di riposo per casa di riposo. è sicuramente un problema all'attenzione della nostra direzione.